Camminando a piedi si può meditare dentro di noi stessi, quindi forse capire a volte che semplicemente con il movimento delle gambe, con la nostra forza che abbiamo dentro, si possono fare delle cose veramente molto importanti. A piedi, insieme, un gruppetto di pellegrini molto motivati vengono da Verona ma anche da Ravenna, Adria e Bergamo. Domani, lungo il cammino, altri si aggiungeranno. Sono il primo gruppo che parte da Verona per raggiungere in tre giorni il Santuario della Madonna della Corona nell'anno giubilare sul Sentiero di Maria. Il Sentiero di Maria è un po' uno dei regali che vorrebbe fare l'anno giubilare e che rimanga nel tempo, per cui l'inaugurazione con cui oggi noi partiamo vuole essere qualcosa che sta nel tempo, non solo per l'anno giubilare, ma l'anno giubilare è l'occasione, è l'esca, è l'innesco di questa nuova partenza. Valorizzando quello che già succedeva nei secoli precedenti, però portandolo in maniera un po' più moderna, più contemporanea. Prima di partire il momento di preghiera per comprendere il senso del pellegrinaggio. Prima tappa Verona-Bussolengo, 17 chilometri con alcune fermate intermedie, sabato Bussolengo-Rivoli, 18 chilometri, domenica 15 chilometri e mezzo, da Rivoli in sua al Santuario della Corona, accompagnati dai colori dell'autunno, dalla preghiera e dalla riflessione che ogni pellegrinaggio porta con sé. Il gruppo aiuta molto anche per il fatto che non si è soli, si condivide anche la fatica del camminare e si può condividere anche tutto un discorso di cammino spirituale. Questo è il primo pellegrinaggio partito da Verona nell'anno giubilare, altri ne seguiranno soprattutto nella primavera del 2022. Una cosa che ci auguriamo, ciascuno possa decidere di partire e farla in autonomia. Certo ci saranno anche occasioni a primavera per poterlo fare insieme come facciamo oggi, ma veramente le famiglie, i nuclei, gli amici, ma anche i parrocchiani possono decidere di mettersi in cammino, hanno tutto il materiale per poterlo fare. Grazie. Grazie.